Visita inaspettata per Fano dell'ex ministro inglese Tony Blair, arrivato in città sabato scorso in occasione del matrimonio di una coppia di amici inglesi, residenti da tempo a Pesaro ma innamorati di Fano. Tra gli invitati dei neosposi Arabelle George c'era anche il primo ministro del Regno Unito, nonché uno dei maggiori protagonisti della politica mondiale. Nonostante le celebrazioni del matrimonio nella chiesa di San Paterniano erano in forma strettamente privata, la presenza dell'ex ministro è passata inosservata da parte delle istituzioni cittadine. Ad accogliere Blair è stato il guardiano del convento di San Paterniano stupito del suo arrivo in città. Io l'ho saputo il pomeriggio precedente perché aprivo per il coro che doveva cantare per questa celebrazione e si è presentato anche un signore, mi ha trattato fuori questo suo tesserino, mi ha detto sono della Digos e io ho detto cosa è successo e dice no al matrimonio ci sarà Tony Blair. Dico bene. Il giorno dopo in mezzo agli invitati vedo Tony Blair che era seduto alla quinta fila e ha assistito alla celebrazione. Non c'è stata la messa, perché? Perché la sposa era cattolica, l'altro no. Allora il rito cattolico prevede che ci sia una funzione solo a celebrazione della parola. Avevano i loro sacerdoti in inglese e hanno fatto questa celebrazione così senza la Santa Messa. Salutato padre Giuliano Viabile, al termine del matrimonio Blair e tutti gli invitati si sono recati nell'agriturismo di Santa Cristina dove era stata allestita la cena di nozze. L'ospite d'onore fin da bambino abitava nei pressi della casa della mamma della sposa, suonova l'organo nella cattedrale di Fano e nel tempo ha sempre mantenuto un rapporto costante con la città e con i parenti degli sposi anche quando ha assunto l'incarico di capo del governo inglese, tanto da indurlo a venire appositamente in città per il matrimonio. Il soggiorno di Blair è stato repentino alloggiato nel weekend in una struttura di Pesaro in quanto a Fano non ha trovato un albergo a 5 stelle disponibile. Il sindaco Matteo Ricci ha accolto subito la presenza dell'ex ministro per promuovere la sua città. È stato un onore conoscere e ospitare a Pesaro Tony Blair, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook. Abbiamo chiacchierato un po' e ovviamente ho approfittato per descrivergli la città della musica e per invitare lui e sua moglie al prossimo Rossini Opera Festival. Non è mancata d'altro canto la risposta di Seri che ha voluto specificare la motivazione del mancato avviso e delle polemiche scaturite sulla mancata accoglienza. Non c'è stata una comunicazione inviti particolari. Poi ha dormito in un hotel di Pesaro e l'albergatore che è persona intelligente, ha accolto la presenza e ha chiamato il sindaco di Pesaro per invitarlo a salutare. Io penso che la stessa cosa, spero perlomeno che l'avrebbe fatta anche un albergatore fanese se ci fosse stata una situazione del genere, ma la notizia vera è che Fano piace e questo penso sia un bel risultato. Per il resto non mi lascio travolgere da queste polemiche che lasciano un po' il tempo che trovano.